L'Ossola, se non fosse vicina, se non fosse al confine con la Svizzera, o non si sarebbe dato, o si sarebbe dato in modo così completamente diverso. Non dico da un punto di vista strettamente militare o nelle dinamiche con le quali si arriva alla creazione di questa zona libera, ma non c'è nessun dubbio dal mio punto di vista che la sua rappresentatività deriva da questa prossimità, perché il fatto di avere sul posto i rappresentanti della stampa internazionale e la capacità quindi di farne immediatamente una cassa di risonanza, di una guerra di liberazione in corso che addirittura è capace di produrre istituzioni autonome, tutto ciò è strettamente in relazione al fatto che si prende il trenino e si viene giù. L'altra cosa decisiva rispetto al confine è la possibilità di mandare via migliaia di persone quando le cose si mettono male e la possibilità di ricevere aiuti in termini alimentari per esempio. È decisivo anche perché il rientro dalla Svizzera di eminenti antifascisti che stavano in Svizzera, di uomini politicamente autorevoli, formati, che godono di relazioni nazionali e internazionali, che sono dei politici a tutti gli effetti, fa sì che lì tu abbia quella che per definizione diventa l'unica cosa che tu puoi scrivere Repubblica con la R maiuscola perché leggifera, perché guarda al futuro come Mazzini quando stava a Roma nel 48 eccetera eccetera. Quindi se la vuoi usare come esempio della straordinaria capacità autopromozionale di alcuni organismi e di alcune menti lucide è perfetta. La popolazione dell'Ossola stesso, gli abitanti di Domodossola dentro questa cosa c'entrano davvero poco. L'Ossola è una straordinaria verifica da una parte della capacità progettuale della Giunta, ma pensiamo che questa Giunta viene insediata da un comando partigiano e sarà compito della Giunta è inventare dei CLN che non sono mai esistiti fino a quel momento insomma. Che tipo di maturità? Non è che lì accade questa cosa perché la popolazione aveva già un'altra maturità politica. Perché diventa famosa? Perché viene continuamente recuperata come l'anticipazione della Costituzione? Perché lì hanno fatto un progetto di riforma scolastica, hanno persino pensato come andavano riscritti i libri di storia. Voglio dire, sì è certamente legiferare il cospetto del futuro. Non ha nulla a che vedere con il fatto che lì ci fosse una maturità del movimento partigiano però. Perché da questo punto di vista tutto ciò che sappiamo dalle relazioni che manda il CLNAI, la missione che viene spedita nell'osso, la fa un rapporto che è terribile per certi diversi. Qua ci sono cinque comandi partigiani, le requisizioni di benzina e di macchine sono fatte in maniera del tutto. Ci sono cinque polizie partigiani, non riusciamo a metterli d'accordo manco su questo. Gli ordini della giunta vengono disattesi. Quindi che maturità politica c'è? C'è la maturità e la brillantezza intellettuale di quelli che costituiscono la giunta. Per cui se lì abbiamo una donna che allora dice sai, è un punto avanzato della presenza delle donne nella resistenza. Se hai un'abolizione della pena di morte in Carnia, lì la scuola, dall'altra parte un'altra cosa, fai un assemblaggio di tutte queste cose che dimostrano la maturità della resistenza. Sì, certamente dimostrano la maturità di un ceto politico che riesce a interpretare e a rilanciare alla grande degli ideali che verranno poi raccolti. Che questo sia rappresentativo del livello di capacità di elaborazione politica o soprattutto di rapporto con le popolazioni da parte del movimento partigiano invece a me continuano a convincere minimamente. Se guardiamo l'ossola che teoricamente è il punto più maturo, lì vediamo che il rapporto con la popolazione è il più assente. In Carnia casomai abbiamo invece, però in Carnia si recuperano cose che nell'ossolo non esistono minimamente. In ossola casomai è una storia del movimento operaio da recuperare in Carnia e invece ha le tradizioni di autogoverno. E però diventa estremamente interessante vedere che lì, come dire, non vai a nuove elezioni, non hai nessuna idea progressiva. Appena hai abolito il controllo fascista, le nuove istituzioni saranno basate sul recupero delle tradizioni locali che precedevano il regime fascista. Hai un meraviglioso ritorno all'indietro per cui capi famiglia che diventano, diciamo così, i titolari di fatto, è una forma di democrazia esclusiva e maschile che si basa sul restaurare antiche tradizioni in qualche modo. E queste antiche tradizioni hanno tradizioni di autogoverno, di responsabilità, dalla gestione dei boschi a quella dei pascoli. straordinario esempio di gente che non sta scrivendo la Costituzione italiana, sta recuperando un modello di vita un po' più decentemente civile di quello che gli aveva imposto il regime fascista che aveva cercato di demolire le tradizioni locali.